Ringrazio tutti i giornalisti per essere qui, ringrazio tutti. Forse è il caso di spiegare perché abbiamo deciso di iniziare una campagna così importante per noi proprio in questo luogo. Perché purtroppo in quest'ultimo anno sono usciti moltissimi articoli, anche brutti, sulla stampa estera che hanno descritto e dipinto la nostra città, ne ho alcuni qui davanti, come una città invasa dai rifiuti. Una città nella quale il degrado, l'immondizia e le rovine avevano un po' il sopravvento sulla bellezza di Roma. Addirittura Mafia Capitale è stata al centro della scena politica internazionale di Roma. Pensate, grazie ai vecchi partiti, oltre alla mafia siciliana, all'Andrangheta e alla Camorra, noi a Roma abbiamo adesso Mafia Capitale. Questo è un po' il quadro che all'estero hanno della nostra realtà. Io continuo a parlare. E quindi in realtà quello che ci preme molto e che ci dispiace molto è che questo sia il quadro triste che si ricava. In realtà Roma non è solo questo. Non ci sono telefoni qui sopra. Ditemi se posso, parlo? Vado? Perfetto. Allora dicevo, questo appuntamento così importante qui è un po' per provare a rilanciare l'immagine di Roma che all'estero è stata purtroppo sporcata da queste brutte vicende che hanno infangato la nostra città. E per dirvi che Roma non è solo degrado, non è solo sporcizia e per fortuna non è solo Mafia Capitale. Anzi, i partiti ci hanno insegnato che Mafia Capitale è una distorsione del sistema perché la politica ormai non la fanno più i partiti. I partiti hanno consentito che i mafiosi, la parte marcia di questa società, si sedesse al tavolo e decidesse per noi cittadini. Non è così. La politica a Roma la devono fare i cittadini. Come due cittadini che abbiamo qui oggi. La politica a Roma la fanno i cittadini tutti i giorni quando prendono l'autobus per recarsi al lavoro, diciamo sfidano un po' la giungla quotidiana e so che all'estero forse non ci potranno capire. Ma per un romano solo recarsi al lavoro o recarsi a scuola è veramente una sfida perché non si sa se l'auto passerà, se passerà in tempo. Quindi anche arrivare puntuali è effettivamente una cosa da Guinness dei primati. La politica a Roma la fanno i cittadini quando scelgono di andare a comprare qualcosa, la bottega sotto casa che magari non ha tutto, invece di andare in un centro commerciale. La politica a Roma la fanno i cittadini quando respirano i miasmi di Malagrotta o sono costretti a respirare lo smog del traffico e i politici cercano di ripulire l'aria con le targhe alterne, quindi questi palliativi assolutamente inutili. Ebbene, i politici che adesso vogliono ricominciare a parlare con i cittadini non ci convincono, non ci hanno mai convinto. Noi cittadini del Movimento 5 Stelle siamo cittadini che parlano e vogliono fare politica e siamo qui per questo. E quindi oggi per noi è importante essere qui. Ed essere qui anche con due cittadini, non è mai accaduto che due cittadini fossero presenti in conferenza stampa. E un altro dato importante forse è che per la prima volta una candidata sindaco donna è qui e magari diventerà la prima sindaco donna della storia di Roma. Io vorrei lasciare però adesso la parola a questi due cittadini che sono due delle migliaia di voci che abbiamo raccolto in tutti questi anni perché è importante per noi che voi ascoltiate le parole dei cittadini che per anni sono stati turlupinati dalla politica, sono stati sbeffeggiati, derisi i cittadini. La politica li prende in considerazione solamente durante il periodo elettorale. Li usa, li sfrutta e poi se li dimentica per i successivi cinque anni finché poi non è di nuovo tempo di elezioni ed ecco tutti a rincorrere i cittadini. Noi siamo un po' stanchi di essere presi in giro ed è quindi per questo che i cittadini debbono ritrovare il loro giusto posto ed è qui che devono stare oggi Daniela e Giacomo e ci devono parlare di due dei temi, dei tre temi principali che i romani hanno votato come i temi sui quali l'azione del Movimento 5 Stelle dovrà rivolgersi prioritariamente una volta che ci insedieremo e sono la mobilità, i rifiuti e la trasparenza. Prego. Non so se si sente, buongiorno a tutti, sono un po' emozionata, spero di non fare gaff e per me è un grande privilegio essere qui e ringrazio la candidata sindaco che mi ha invitato in questa occasione e sono contenta anche se è un compito un po' pesante rappresentare un po' tutti i cittadini insomma forse in maniera un po' indegna Io sono una mamma, ho un'attività commerciale a Roma e diciamo mi trovo qui forse perché sono stanca della vecchia politica ma già da un po' di anni non mi ci rispecchio più, non mi ci ritrovo più i miei problemi tutti i giorni sono sempre incalzanti non trovo mai un supporto nelle amministrazioni Stamattina, un esempio semplice, dovevo venire qui puntuale, mi sembra giusto perché non potevo certo far tardi ho aspettato l'autobus mezz'ora una linea che dovrebbe essere espressa, quindi una linea di quelle che dovrebbe passare uno ogni dieci minuti massimo ne è passato uno dopo mezz'ora sono stata appiccicata alle porte praticamente per tre fermate senza potermi muovere quindi neanche per fare il biglietto sono arrivata a Portavia e mi sono ricordata che non l'avevo fatto questo biglietto ho detto ma se lo meritano questo biglietto perché c'è in un caro bestiame forse stavo più comoda stamattina non riuscivo neanche a togliere il cappotto quindi rifletto su queste cose tutti i giorni quando per esempio vado alla ASL per delle cose di mio figlio o quando per il lavoro vado negli uffici è tutto molto complicato Roma non se lo merita Roma è una città bellissima io sono nata qui negli anni 60 non mi ricordo questo caos non si può più girare con la macchina ho pensato forse vado con la macchina la lascio da qualche parte poi ho detto ma dove vado con la macchina già non si riesce a camminare a piedi quindi io penso che è ora che ci riapproviamo un pochino della nostra città è una città voi siete stampa estera conosciuta in tutto il mondo che ha tanto da dare ma quello che diamo è sempre un segnale di degrado e io non me la sento più di andare avanti così voglio provare a cambiare sono qui perché ci credo in questa cosa ci voglio credere perché credo che sia la mia ultima chance cioè voglio lasciare qualcosa ai miei figli che non sia degrado che non sia un debito pubblico sulle spalle che ci schiaccia io ho un ragazzo disabile ma quale futuro ha mio figlio ma anche il ragazzo, l'altro figlio che studia all'università ma che futuro ha? lo dovrò mandare all'estero? purtroppo da noi la situazione è questa io non voglio rubare troppo tempo a Virginia perché sicuramente ha più cose da dire di me però voglio lanciare questo messaggio che i cittadini di Roma questa volta abbiano un pochino la consapevolezza di quello che vanno a fare quando vanno a votare perché ho dato fiducia alla politica diciamo per più di vent'anni visto che ce ne ho 50 passati adesso basta adesso voglio cambiare ci credo e ci voglio credere grazie Giatomo grazie Virginia per questa opportunità vorrei portarvi l'esperienza di un cittadino di Malagrotta noi come tutti i romani io sono architetto sono proiettato verso la città quindi spesso mi dimentico di cosa ho alle spalle ho il sistema di Malagrotta una raffineria, una discarica un inceneritore di rifiuti ospedalieri stabilimenti sovrapposti vicini dove non c'è nessuna valutazione del rischio reale ad esempio di un effetto domino di diciamo problemi vediamo i percolati nei fossi abbiamo chiesto alle amministrazioni di darci una risposta l'abbiamo trovato è molto molto lontano è molto distante dalla realtà dei cittadini ci siamo rivolti all'Europa l'Europa ci ha ascoltato è venuta, ha visto e ha messo addirittura in infrazione l'Italia per le discariche il risultato è che ci siamo sentiti per la prima volta cittadini nella nostra città e sul nostro territorio addirittura in Europa ascoltati ogni cittadino europeo è il cittadino qui a Roma non è così le amministrazioni sono lontane ogni volta che abbiamo chiesto l'accesso agli atti o spiegazioni di quello che stava succedendo delle verifiche che non venivano fatte non ci hanno dato risposte molti altri cittadini come ho fatto io prima di prendere una macchina fotografica e iniziare a documentare quello che avevo dietro casa nel ripostiglio della città di Roma perché tutto il territorio di Malagrotta è praticamente stato utilizzato in questo modo prima di far questo non avevo la sensazione di quello che effettivamente accadeva così come molti altri cittadini dove magari hanno la sensazione di rifiuto soltanto quando lo devono portare fuori di casa e non sanno neanche in quale contenitore metterlo ma le problematiche sono proprio a monte nella gestione anche nell'organizzazione ma soprattutto nella presenza dell'amministrazione l'amministrazione è assente assente la regione assente la provincia abbiamo speranza nel comune abbiamo bisogno di un'amministrazione che si avvicina al cittadino che abbia la vera sensazione di quella la vera cognizione di quello che è il problema dei rifiuti che vada sul campo e che guardi con gli occhi dei cittadini perché finora lo hanno fatto con gli occhi degli imprenditori i risultati li abbiamo sotto gli occhi quindi chiediamo a Virginia insomma speriamo che grazie io ringrazio entrambi perché era importante farvi sentire le loro parole perché sono parole che vengono vengono dal cuore e sono quelle che noi ci sentiamo di dire tutti i giorni e che tanti altri cittadini ci hanno detto sino ad oggi per tutti questi anni prima che entrassimo in politica quando ci siamo entrati nella scorsa consigliatura e continuano oggi perché il rapporto che noi abbiamo con loro è costante perché siamo cittadini non siamo politici siamo cittadini ed era importante che voi lo sapeste lo ascoltaste allora abbiamo sentito due tematiche la mobilità e i rifiuti partiamo dalla mobilità ripeto forse la stampa estera e forse all'estero non capiscono cosa voglia dire prendere un autobus ma diciamo che a Roma ecco noi ci troviamo di fronte a una sfida quotidiana prendo l'autobus e arrivo al lavoro puntuale arrivo al lavoro arrivo a scuola noi vogliamo cambiare completamente il sistema del trasporto pubblico abbiamo capito ed è sotto gli occhi di tutti il fallimento delle precedenti amministrazioni che hanno probabilmente fatto dei piccoli interventi spot che non servono in alcun modo ai cittadini e alla città è fondamentale che Roma cambi completamente paradigma perché è soffocata siamo soffocati dal traffico e dallo smog peraltro siamo sempre fermi nelle nostre scatolette di metallo non andiamo da nessuna parte quindi è chiaro che così non si può continuare non ci sono alternative se non un rilancio di una mobilità pubblica considerate che circa il 66% dei romani si sposta con il mezzo privato perché è più conveniente perché se dobbiamo aspettare mezz'ora o un'ora un autobus e talvolta ne dobbiamo prendere più d'uno quindi addirittura dobbiamo sommare due tempi d'attesa noi non arriviamo a far nulla di quello che dobbiamo fare considerate che Roma è la tredicesima città al mondo nella scala diciamo delle città più trafficate la quinta è un'Europa e abbiamo un bel primato siamo la prima in Italia francamente questo primato non ci piace e vorremmo poter cedere lo scettro e lo cederemo cosa vogliamo fare cose di buonsenso quello che direbbero tutti i cittadini innanzitutto più mezzi pubblici non è ammissibile che un'amministrazione tagli le linee o le razionalizzi l'hanno chiamata razionalizzazione perché poi loro giocano con le parole ma di fatto il concreto è che ci sono tagli tagli delle linee e soprattutto noi vogliamo più mezzi pubblici nelle periferie perché è un dato di fatto che i romani vivono nelle periferie e vanno al centro per lavorare e quindi è giusto che ci siano dei mezzi pubblici che portino i romani dalle periferie al centro è una cosa semplice una cosa di buonsenso che fino adesso non è stata fatta anzi fino adesso hanno tagliato i mezzi soprattutto nelle periferie quindi completamente contrari a ogni logica vogliamo quindi una distribuzione capillare dei mezzi pubblici che invogli i cittadini a lasciare a casa la macchina semplice chiaro vogliamo che i mezzi pubblici abbiano delle corsie preferenziali dove andare veloci vogliamo che i semafori siano sincronizzati in modo tale che quando passa l'autobus tutti gli altri semafori blocchino il flusso delle auto perché le auto devono stare fermi e gli autobus devono circolare in modo tale che i cittadini nel tempo vedano che uh quanto va veloce l'autobus forse mi conviene lasciare a casa la macchina ed è una cosa che si può fare abbiamo la tecnologia per farlo non servono neanche investimenti milionari è una cosa che si può fare e ci impegniamo a farla vogliamo inoltre dare lo spazio a tutti quei cittadini che forse oggi un po' come degli eroi si spostano con la bicicletta non è giusto vedere queste biciclette che sfrecciano nel traffico sfidando effettivamente la sorte tutti i giorni vogliamo che Roma sia abbia una rete di piste ciclabili collegate tra loro in modo che i cittadini si possano spostare in sicurezza non è accettabile che ci siano morti perché le macchine investono i ciclisti non è accettabile perché ovviamente questo non rende più semplice la vita a quei cittadini che provano a essere più leggeri nella nostra società e provano ad andare in bicicletta non è accettabile quindi noi ci impegneremo per migliorare la rete ciclabile è fondamentale è una cosa di buonsenso è una cosa che ci chiedono i cittadini è una cosa che ci chiedono anche i bambini anche mio figlio lo dice mamma fai le piste per le bici sembra sembra la scoperta della ruota è proprio semplice è banale ancora la tecnologia ci dà moltissime app le applicazioni per i cellulari per gli smartphone per riuscire a capire quando passa l'auto per riuscire a integrare i mezzi pubblici tra loro sfruttiamola la tecnologia ci aiuta noi dobbiamo far sì che la rete di mobilità pubblica e di mobilità alternativa sia facile utile conveniente questo è il nostro impegno è molto semplice aumentare il car sharing anche elettrico aumentare il bike sharing anzi qui più che aumentare bisogna dire proprio rimpiantarlo nuovamente perché se avete visto vi siete fatti un giro per la città avrete visto come gli stalli per il bike sharing non sono sono vuoti adesso sono addirittura occupati da qualche tavolino selvaggio perché tanto non servono a niente questa è l'immagine che abbiamo ecco noi vogliamo lanciare o rilanciare il bike sharing e ancora per esempio misure come il telelavoro dove è possibile agevolano una come dire un deflazionamento dei flussi di traffico quindi sono tante misure integrate tra loro che renderanno questa città più vivibile più facile per tutti i cittadini come lo faremo sicuramente efficientando e tagliando gli sprechi non è un mistero che Atac per esempio spenda in appalti esterni penso alle ditte di vigilanza le ditte di pulizie oltre 50 milioni di euro annui e perché noi non possiamo fare quei servizi al nostro interno perché dobbiamo appaltarli a terzi perché dobbiamo spendere altri soldi quando in realtà sono cose che possiamo gestire in casa buonsenso anche qui non stiamo reinventando la ruota e forse diamo un po' la colpa a questi politici di aver sfruttato questi biechi sistemi che poi conosciamo tutti e abbiamo visto anche gli effetti di parentopoli per farsi i loro comodi ecco questo è un po' il quadro per esempio sulla mobilità che vorremmo attuare niente di come dire assurdo tutte cose di buonsenso e anche semplici questo è un po' il nostro progetto e così sui rifiuti vi do un dato il 31 dicembre del 2014 me lo sono scritto perché con i numeri è bene essere precisi Ama dichiarava che la raccolta differenziata a Roma era al 37% quindi 31 dicembre 2014 diciamo che probabilmente in quest'anno avrà aumentato la percentuale saremo arrivati intorno al 40% sono dichiarazioni di Ama tuttavia sotto gli occhi di tutti c'è che l'immondizia invade un po' la città addirittura noi abbiamo circa 5 sistemi di raccolta differenziata a seconda delle zone della città quindi abbiamo un porta a porta spinto abbiamo talvolta i cassonetti condominali abbiamo ancora i cassonetti per strada abbiamo delle zone che non sono servite dalla raccolta differenziata però per esempio quello che vediamo nei cassonetti per strada è che talvolta nel cassonetto bianco della carta ci sono mucchi di giornali chiusi in una busta di plastica io adesso lo dico con un sorriso ma ogni volta che vedo una cosa del genere penso oh mio Dio noi a Roma abbiamo una differenziata probabilmente una percentuale che è anche corretta ma una qualità di differenziata che non è affatto buona e questo che cosa comporta? comporta che i rifiuti continuano ad essere percepiti come un problema come una cosa schifosa da tenere lontano che sporca che inquina il percolato i rifiuti tossici i rifiuti li dobbiamo ripensare i rifiuti sono una risorsa i rifiuti possono essere utilizzati come nuove materie prime se noi facciamo una buona differenziata abbiamo un'ottima materia prima seconda si chiama ossia una nuova materia prima che viene però dalla fine del ciclo di vita di un prodotto quindi noi non produciamo nuove materie prime rimettiamo nel mercato quello che già c'è e basta fare una raccolta differenziata di qualità non è difficile però i cittadini devono essere aiutati devono essere informati i cittadini devono sapere che quando conferiscono la carta all'interno del cassonetto della carta non deve essere chiusa nelle buste di plastica altrimenti non ha senso ma bisogna spiegarglielo l'amministrazione deve aiutare i cittadini a capire deve spiegare quali sono i benefici di una raccolta differenziata oltre a questo una raccolta differenziata che per esempio introduca all'interno del sistema una filiera sana per esempio di centri di riuso riparazione e riciclo prima che il prodotto arrivi in discarica crea posti di lavoro con l'immondizia con la mondezza romana noi non solo ci possiamo fare nuova materia prima ci possiamo fare posti di lavoro ed è questo quello che serve serve ripensare al sistema dei rifiuti in maniera intelligente e possiamo farlo perché? perché non dobbiamo rendere favori a nessuno non al cerroni di turno assolutamente no noi dobbiamo rendere favori solamente ai cittadini sembrano cose dell'altro mondo eppure in molte città per esempio in California tutto questo è già realtà in altre parti del mondo quello che per noi è un punto di programma un obiettivo è già realtà è vero non stiamo proponendo niente di irrealizzabile sono cose di buon senso ancora una cosa che noi dobbiamo fare per invogliare i cittadini è spiegare come si fa la raccolta differenziata ed è anche introdurre la tariffa puntuale che cos'è la tariffa puntuale? una cosa molto semplice meno inquini meno paghi è giusto premiare i comportamenti virtuosi è giusto che i cittadini che imparano a fare bene la differenziata abbiano una bolletta più leggera la differenziata fa bene a loro fa bene all'ambiente fa bene al futuro perché l'unica terra che abbiamo è questa ed è per noi è per i nostri figli anche per i nostri avversari politici se miglioriamo miglioriamo per tutti non solo per gli elettori del 5 stelle questa è una cosa un merito del quale non vogliamo andare fieri però è così cioè quello che noi facciamo non lo facciamo per i nostri elettori o per ipotetici interessi che noi non abbiamo è per tutti e così anche il ciclo dei rifiuti può essere portato da una gestione assolutamente fallimentare e che privilegia l'interesse di pochi e uccide perché uccide ricordatevi quello che accade nella terra dei fuochi quello che uccide i cittadini può essere invece riportato ad essere un sistema virtuoso che probabilmente ripulisce l'ambiente e che soprattutto fa risparmiare e crea posti di lavoro non mi sembra una cosa difficile da capire certo non sarà facile da attuarlo perché parliamoci chiaro noi ci troviamo a dover amministrare una città che è stata stuprata per anni da una cattiva politica e da una cattivissima amministrazione purtroppo guidata da una politica i cui interessi non erano quelli dei cittadini e quindi dobbiamo prima di poter ricostruire dobbiamo andare a sciogliere questi nodi tutte queste stratificazioni che ci troviamo non sarà un'impresa facile però riteniamo che sia giunto il momento non ci sono alternative e siamo pronti a farlo ancora ci chiedete come intendiamo farlo è giusto il terzo punto scelto dai romani e che rappresenta il modo in cui noi faremo e affronteremo un po' tutte le tematiche è quello della trasparenza e della riduzione degli sprechi è una modalità un po' nuova in effetti per il panorama romano lasciatecelo dire per noi è fondamentale che i cittadini siano in grado di sapere in ogni momento quello che accade ai loro soldi perché i cittadini pagano tasse e tariffe e ricevono purtroppo pochissimi servizi quindi è fondamentale che loro abbiano il controllo della gestione dei soldi loro devono sapere che cosa l'amministrazione fa dei loro soldi e questo sarà un punto importante dobbiamo aumentare la trasparenza dell'amministrazione nei confronti dei cittadini allo stesso tempo noi andremo come vi abbiamo detto tante volte andremo a recuperare progressivamente tutti quegli sprechi che Roma Capitale nel tempo ha accumulato pensate ho una tabella sempre perché con i numeri è bene essere precisi ho una tabella che rappresenta in maniera sintetica circa un miliardo e duecento milioni di sprechi di euro di sprechi annuali che l'amministrazione si permette di continuare a prorogare come se non fossero soldi nostri e beh noi questi sprechi li dobbiamo aggredire anche se questo significherà aggredire dei centri di potere anche se questo significherà andare a intaccare delle sacche di privilegio anche se questo significherà andare a pestare i piedi di qualcuno è tempo di farlo perché vedete quando ci dicono che non ci sono i soldi per i nidi pubblici e quindi si privatizzano e poi però stimano nella corruzione un flusso di circa 650 milioni di euro l'anno solo a Roma 10 miliardi in Italia non è vero che non ci sono i soldi i soldi ci sono ma invece di andare in un circuito sano vanno in un circuito malato allora i cittadini non devono essere presi in giro non ci sono soldi quindi riduciamo i servizi no signori non ci sono i soldi riduciamo gli sprechi iniziamo a ridurre l'emorragia perché è questo quello che serve non possiamo siamo già una città in cui il livello di tassazione è il più alto d'Italia allora imporre altre tasse è assolutamente inconcepibile tagliare gli sprechi è l'unica strada da percorrere i partiti non possono farlo perché purtroppo su questi sprechi hanno costruito il loro consenso elettorale ebbene ci siamo noi noi il consenso elettorale a noi non serve a noi noi vogliamo la partecipazione dei cittadini non ci interessa il consenso con la finalità del voto non ci interessa come dice bene il nostro Alessandro Di Battista se vi piace quello che avete continuate a votare quello che c'è se volete cambiare tutto noi siamo qui e allora abbiamo per esempio 216 milioni di euro 216 milioni di euro che derivano dall'evasione dell'Imu e della Tasi che sfugge agli accertamenti perché i dati presenti nel catasto sono errati cioè noi non conosciamo bene il nostro patrimonio immobiliare questa è già un'altra grave pecca dell'amministrazione noi non sappiamo con precisione quanti immobili abbiamo però sappiamo comunque che i dati riferiti agli immobili che abbiamo non sono corretti non sono aggiornati e già sulla base di questo aggiornamento noi potremmo recuperare 216 milioni di euro non è poco ancora circa 100 milioni derivano dal mancato adeguamento dei canoni sugli immobili residenziali per i cittadini non indigenti cioè per quelli che non sono poveri sono sotto gli occhi di tutti gli articoli di giornale e i servizi che parlano di appartamenti a Fontana di Trevi di oltre 100 metri quadri affittati a 300 euro al mese quando un monolocale un bilocale nella stessa zona costa circa 750 euro come funziona noi amministrazione non abbiamo il diritto di incassare a canoni di mercato per i cittadini non indigenti parliamo ecco allora forse dobbiamo un po' ripristinare la legalità anche di queste situazioni abbiamo circa 400 milioni di euro per costi e servizi che noi offriamo alla città del Vaticano che non sono dovuti né dai patti lateranensi né dalle modifiche dell'84 considerate che da dati del dipartimento che ci sono stati forniti lo scorso anno per rimettere a posto il complesso delle scuole romane servono circa 400 milioni di euro una volta una volta sola e 400 milioni di euro è la cifra che ogni anno invece l'amministrazione elargisce o comunque non incassa dalla città del Vaticano abbiamo ancora per esempio circa 15 milioni per il mancato aggiornamento del piano di utilizzo degli arenili abbiamo 20 milioni che potremmo ricavare da una riduzione sul contratto di servizio di Acea abbiamo immobili nei parchi e nelle ville che sono occupati abusivamente e che non rendono per circa 5 milioni di euro non vi parlo poi di quelli scusatemi di quelli che sono gli sprechi una tantum però magari un paio di dati ve li voglio dare considerate che noi abbiamo circa 600 milioni di imuici non pagata dall'Ater considerate che la città dello sport tra il primo e l'ultimo preventivo ci è costato 600 milioni di euro e potrei continuare sono dati allarmanti e l'allarme ancora più grave se volete è dato dal fatto che in questi due anni e mezzo in cui noi siamo stati in Campidoglio noi tutti questi sprechi li abbiamo fatti rilevare questa tabella che oggi vi ho appena illustrato così a grandi linee è una tabella che abbiamo integrato nel corso dei due anni perché avevamo la presidenza della commissione revisione della spesa che infatti poi ci hanno tolto forse perché lavoravamo troppo bene ecco noi questi dati abbiamo provato a comunicarli e a chiedere ovviamente di andare ad aggredire questi sprechi e la risposta è sempre stata no ovviamente non motivata la motivazione ormai è chiara a tutti allora signori che dire i margini di miglioramento ci sono la possibilità di far rinascere Roma c'è non sarà un compito facile lo ripeto lo sappiamo ne siamo pienamente consapevoli però è una sfida che possiamo affrontare possiamo affrontarla tutti insieme con i cittadini e con i nostri omologhi degli altri livelli istituzionali i colleghi in regione i colleghi in Parlamento i colleghi nel Parlamento europeo ci siamo noi siamo qui vogliamo che i cittadini riprendano questa città finalmente si prendano la loro rivincita eccoci qui ci apriamo le domande noi prima dovrei passare il microfono chi buongiorno Gustafofer di Arte allora lei dice che con voi i cittadini arrivano al potere è ora che tornano i cittadini e i cattivi sono i politici ma spesso dal punto di vista di chi viene da fuori da Roma e appunto non è romano ha l'impressione che spesso sono proprio i cittadini romani che sono quelli che parcheggiano in seconda fila che buttano i rifiuti dove non vanno buttati che prendono la macchina perché è più comodo che sono gli ue che cercano di corrompere il vigile per non pagare una multa eccetera eccetera per cui l'idea che arrivano i cittadini è per un osservatore da fuori è uno slogan un po' un po' bizzarro questa è la prima cosa la seconda domanda è il vostro slogan è rimane Roma ai Romani è questo lo slogan? rispondo? no è giusto per sapere perché in quel senso è buffo che la prima uscita pubblica la stampa estera perché anche i cittadini europei che vivono a Roma ovviamente possono votare a Roma per il comune però si sentono un po' esclusi con questo messaggio che date grazie il nostro slogan il nostro slogan rispondo da qui sarà vogliamo che Roma vogliamo dare voce a tutti i cittadini a tutte vogliamo 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 che Roma vogliamo che Roma sia pulita vogliamo che Roma sia onesta verbo volere l'ho detta male vogliamo vogliamo e vogliamo che Roma voli vogliamo per Roma perché è giusta l'osservazione che lei fa quella dei cittadini forse i cittadini sono stati anche amministrati molto male e quindi si sono forse rilassati rilassati un po' troppo e sono entrati in questo ciclo malato però non è vero che è sempre così sicuramente ci sono i furbetti ci sono e noi li andremo a colpire però ci sono anche tante persone oneste che hanno veramente difficoltà a vivere in una città come questa proprio perché si trovano magari ecco come come Daniela a dire io aspetto l'autobus per mezz'ora perché non prendo la macchina perché altrimenti dove la parcheggerei e poi si trovano a dover vedere una persona che parcheggia in seconda fila io la differenziata la faccio bene a casa differenzio tutto metto tutto nei sacchetti vado conferisco correttamente però il mio vicino butta i giornali nella busta di plastica si tratta di aiutare le persone a capire che un altro modo di vita è possibile ma è chiaro che se fino adesso nessuno dà l'esempio i politici sicuramente non l'hanno dato probabilmente non tutti i cittadini riescono a rimanere integerrimi allora forse noi vogliamo dare un buon esempio affinché tutti siano portati a capire che c'è la possibilità di vivere in un altro modo un modo più sostenibile un modo più rispettoso e questo modo avvantaggia tutti quindi è vero ci sono alcuni cittadini furbetti noi vogliamo portare la legalità l'onestà e un buon modo di vivere anche a questi cittadini vogliamo fargli vedere che è possibile un'alternativa perché è possibile grazie si qua Matildo Villan per Mediapart in Francia sto qua ah scusi allora Barcellona in Spagna Podemos ha vinto la città lei come si colloca rispetto ad Acolao accetta la comparazione di essere equiparata eventualmente se viene eletta ad Acolao e altra domanda il Movimento 5 Stelle è maturo per governare la città capitale dell'Italia mi faccio iniziare da questa è una bella domanda il Movimento 5 Stelle è maturo so che non si risponde a una domanda con una domanda però spesso in realtà ce la fanno e noi ci sentiamo di rispondere ma i politici che pure hanno tanta esperienza sono maturi per governare una città come Roma perché se la loro maturità si rispecchia negli effetti che vediamo oggi allora vi dico no loro non sono stati maturi e noi che siamo i nuovi arrivati forse noi lo saremo io credo di sì perché se la maturità si misura in esperienza e l'esperienza ha portato a quello che c'è oggi allora la risposta è sì siamo più che pronti più che maturi grazie posso? la domanda su Barcellona la risposta su Barcellona ah sì scusi la risposta su Barcellona è che non sono io a dovermi paragonare noi siamo qui come semplici cittadini ce lo lasci dire come semplici cittadini l'effetto della nostra azione lo vedrete e sarete voi eventualmente a fare le comparazioni se lo ritenete io ritengo che quello che ci sta mostrando il mondo è che in molte parti evidentemente i cittadini sono stanchi di subire gli effetti di una cattiva politica le comparazioni poi le lasciamo a voi non è il nostro lavoro Corina della Sera salve lei ha detto due tre cose a noi non interessa il consenso elettorale di cosa significa che abbiamo cambiato il sistema a noi non interessa il consenso elettorale a noi non interessa il consenso con finalità di prendere voti di acchiappare voti perché quello che fanno i politici è andare in giro parlare con i cittadini farsi vedere nei mercati nelle periferie nei centri anziani per acchiappare voti prima delle elezioni ecco non ci interessa questo a noi interessa riuscire a governare con i cittadini per il bene dei cittadini e andare insieme durante tutti i cinque gli anni della consigliatura con i cittadini ripeto a noi non interessa fare promesse sì ma i cittadini sono cittadini prima di essere elettori a noi non interessa fare promesse elettorali per acchiappare un consenso e poi non fare nulla non è questo il nostro modo di fare perché l'abbiamo subito sulla nostra pelle noi preferiamo provare a convincere le persone che quello che cerchiamo di fare è qualcosa che andrà a vantaggio di tutti i cittadini ripeto non parlo di elettori parlo di cittadini i politici parlano di elettori a noi ci trattano come elettori ci danno la la cosa bella la bella promessa elettorale e poi e poi ci abbandonano non ci interessa questo ci interessa parlare e continuare questo dialogo con i cittadini durante tutti i cinque gli anni non è consenso elettorale è riuscire a capire che cosa vogliono che cosa vogliamo provare a portare quelli che sono i nostri bisogni all'interno dell'amministrazione grazie lei prima ha parlato di mobilità voglio tornare la mobilità in realtà è una grande opera quindi cosa ne pensa del proseguimento dei lavori della linea C cosa volete farne e cosa volete fare se vincete dello stadio della Roma lo stadio della Roma allora subito con lo stadio via questa è la domanda è la domanda che vi piace sicuramente noi siamo favorevoli a uno stadio sia della Roma che della Lazio però non vogliamo le speculazioni edilizie questo è chiaro il progetto il progetto era evidentemente frutto di una speculazione edilizia perché su un milione di metri cubi di cemento prevedeva uno stadio per il 14% il resto erano tutti edifici erano centri direzionali quindi siamo assolutamente favorevoli lo diciamo da subito ma senza speculazione edilizia i cittadini non vogliono la speculazione edilizia vogliono lo stadio e quindi cercheremo il modo migliore per fare lo stadio senza speculazione edilizia per quanto riguarda le grandi opere la nostra visione è un po' come dire piuttosto nota le grandi opere che sprecano tanti soldi non ci piacciono però inevitabilmente ci dovremo confrontare con la metro C che è un'opera che come ricorda sempre uno di noi ex consiglieri nacque come progetto quando era nato lui quindi circa 30 anni fa e oggi ancora non è finita credo che solo a Roma solo a Roma riusciamo a metterci più di 30 anni per progettare e iniziare a costruire una metro credo siamo un unicum al mondo forse un altro primato negativo e ce lo prendiamo e non è che possiamo fare altro sicuramente oggi i lavori sono in stato avanzato per cui non è neanche più possibile dire ci fermiamo a San Giovanni del resto non ci sarebbe neanche il posto per fare il tronchino quello necessario per lo scambio quindi andranno avanti però dovremmo capire come farli andare avanti perché è importante la sostenibilità dell'opera è importante che non continui a mangiare soldi pubblici probabilmente si arriverà a Colosseo e poi capiremo capiremo cosa fare sono Constanza Roiscia di Welt di Berlino buongiorno buongiorno lei parlava prima di sacche di privilegi nell'amministrazione pubblica che è il grande problema di Roma e lo sappiamo perché alcune parti di queste sacche si chiamano anche mafia capitale che è un sistema molto radicato nel territorio e se siamo tutti sinceri fino a un fondo Marino è falito nel cercare di fare ordine in queste sacche di privilegi e di corruzione e di diciamo di questi sistemi paralleli all'amministrazione pubblica o dentro i sistemi dell'amministrazione lei come pensa di eliminare questi privilegi chiamiamoli così perché qua ci troviamo sempre su un terreno che scivola verso la criminalità e ci sono gruppi e lobby che sono un po' di qua un po' di là anche un personaggio come Alfonso Sabella è fallito a combattere questo tipo di fenomeni lei come pensa di di venirci a capo grazie per la domanda vede c'è un fatto Marino lo hanno definito un alieno però Marino era il terminale di un partito che ha un nome e un cognome si chiama PD ed è un partito che non nasce oggi ma che ha attraversato direi un arco botanico dall'ulivo alla quercia alla margherita non so forse il tasso il leccio se non ricordo ma insomma è sempre lo stesso partito con nuove facce quindi effettivamente Marino ha dichiarato di voler combattere un sistema e forse questo non possiamo saperlo forse magari in cuor suo avrebbe anche voluto farlo però era legato mani e piedi a un partito che con questo sistema come l'omologo dall'altra parte ci è sceso a patti e questo non lo diciamo noi lo dicono le intercettazioni quindi come si può combattere un sistema di corruzione quando quel sistema è quello che ti tiene in vita non si può ed è per questo che noi diciamo sarà dura però abbiamo la consapevolezza che le nostre mani libere e lo ripetiamo sempre il fatto di non aver ricevuto favori e di non volerne ricevere ci porterà a non dover rendere nulla a nessuno se non a noi stessi cittadini quindi lo faremo piano piano con costanza facendoci aiutare anche dalla magistratura perché quando bisognerà portare gli atti in procura come abbiamo fatto in tutti i casi in cui abbiamo scoperto un po' di marcio l'abbiamo fatto lo faremo senza pensare di dover rendere nessun favore a nessuno però ci sono se posso insistere sopra i bianchi tutto questo tema qui quando lui ha cambiato qualche cosa subito il giorno dopo nessuno lavorava più questo è certo rifiuti appunto dei mezzi pubblici questo a parte il PD e il sistema anche se lei comincia a fare una cosa del genere ma lo sappiamo vede anche i sindacati fanno parte di questo sistema purtroppo è tutto un sistema che si regge in un intreccio malato tra politica affari sindacati in realtà ai lavoratori quando si spiega che quello che vogliamo fare non andrà contro i loro interessi ma andrà contro certi interessi malati i lavoratori saranno in grado di capirlo grazie DG3 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 se lo passiamo sui mitofono lì e da un po' l'amato si a proposito della questione di cui stavate parlando mi ricorda che a novembre 2015 Grillo disse se vinceremo a Roma i romani lo devono sapere ci saranno degli effetti collaterali pesantissimi e parlò del fatto che sarebbero state azzarate tutte le amministrazioni e quindi insomma gente che verrà in comune ci chiederà perché avrà perso il lavoro ci saranno sciopari sarà difficile ma insomma poi alla fine si renderanno conto che per loro sarà positivo quindi voglio capire se queste parole hanno ancora attualità per oggi visto che per lei di fatto è il primo giorno di campagna elettorale e poi le voglio chiedere anche un'altra cosa lei lo saprà meglio di me i governi delle città le esperienze 5 stelle insomma sono stati per il movimento in alcuni casi anche dei punti dolenti penso a Parma penso anche a Livorno Nogarin disse per governare bisogna fare dei compromessi perché altrimenti non se ne viene a capo fatto che insomma per i 5 stelle non è proprio una cosa facile da digerire vorrei sapere che cosa ne pensa grazie allora per quanto riguarda le parole di Grillo Grillo ha senza dubbio messo il dito su una piaga a Roma abbiamo circa 24.000 dipendenti pubblici e un'altra e altrettanti se non di più tra le partecipate le partecipate spieghiamolo sono delle società che Roma stessa Roma Capitale l'amministrazione ha creato per fornire servizi ad esempio la società di trasporto pubblico la società che gestisce rifiuti Zetema che è una società che gestisce gli eventi culturali a Roma e così via quindi circa 60.000 persone possiamo dire tra le 50 e le 60.000 persone lavorano per l'amministrazione romana i servizi sono sotto gli occhi di tutti ora sicuramente questo esercito di persone andrà razionalizzato razionalizzato significa renderlo più efficiente perché non è pensabile di avere appunto tutte queste persone che lavorano per noi e avere una città che poi è sporca con i trasporti che non funzionano le cose che non girano un meccanismo inceppato quindi bisognerà capire chi fa cosa e innanzitutto riorganizzare dove c'è carenza bisognerà spostare persone dove c'è sovrabbondanza bisognerà cercare di riequilibrare innanzitutto è questo quello che dobbiamo fare ed è questo tra l'altro un punto sul quale abbiamo trovato molta difficoltà nella scorsa consigliatura perché noi cercavamo di capire come fossero allocate il termine tecnico è allocate cioè impiegate le singole persone non abbiamo avuto grandi risposte ora una delle prime cose che faremo è capire appunto come sono allocate queste persone per riallocarle in maniera più funzionale possibile perché una città deve funzionare deve fornire servizi non deve fornire stipendi a persone che pensano di poter non lavorare questo è assolutamente inaccettabile quindi questa è la prima cosa che faremo per quanto riguarda gli altri comuni diciamo subito che su circa 8.047 8.050 comuni noi ne amministriamo 15-16 che grazie a Dio la vecchia politica ci ha lasciato inzeppati di debiti e di situazioni che dire grottesche drammatiche è poco e stiamo facendo bene penso proprio a Livorno un esempio che lei ha fatto a Livorno Nogarin il sindaco si è trovato a dover gestire una municipalizzata dei rifiuti LAMS che aveva 42 milioni di euro di debito e nonostante la protesta dei sindacati attenzione ecco ritorno anche sulla domanda che mi aveva posto la sua collega i sindacati ovviamente hanno fatto una protesta enorme quando Nogarin ha detto attenzione questi 42 milioni di euro li dobbiamo pagare noi o dobbiamo capire prima di mettere soldi altri soldi pubblici chi ha creato questo debito i sindacati si sono arrabbiati sono scesi in piazza hanno fatto una protesta e per tutti gli anni precedenti quando l'amministrazione non riceveva soldi e questa questa municipalizzata non funzionava dove erano i sindacati perché i sindacati scendono in piazza solamente quando si minaccia o pensano che qualcuno possa togliergli le loro sacche le loro tessere perché perché i sindacati hanno contribuito a creare quel problema a Livorno che poi è stato risolto brillantemente trasformando i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato quindi nonostante un primo periodo di difficoltà la soluzione è stata positiva per Livorno e per l'AMS certo è stato difficile perché il sindaco non solo si è dovuto scontrare con una realtà difficile ma con tutto il mondo dei sindacati tutti i giornalisti contro ecco questa sarà un'ulteriore difficoltà che noi dovremo affrontare e che spero vivamente i giornalisti invece vogliano come dire affrontare in maniera diversa spero capiscano che noi stiamo cercando di fare qualcosa di positivo per la città tra l'altro ricordo che proprio a Livorno o anche a Pomezia due sindaci sono riusciti a inserire il reddito di cittadinanza che è uno dei nostri punti fermi sia a livello nazionale che a livello locale quindi non direi che i nostri sindaci stanno amministrando male stanno cercando di togliere le macerie e ricostruire ci vuole tempo e non è facile ma non stanno andando male grazie giornalista pakistano Ahmad Ejaz buongiorno lei ha parlato di romani sempre e in questa città vivono mezzo milione di immigrati sarà una città multiculturale lei ci sarà un programma un progetto di questo multiculturalismo perché Parigi dopo gli attentati hanno rinforzato l'integrazione e a Londra addirittura hanno candidato Sadiq Khan che è di origine pakistana e a Roma anche ci sarà questo progetto di multiculturalismo e un'altra domanda mia è in questa città e Rom stanno soffrendo molto sono figli di nessuno e ci sarà qualche progetto di inclusione grazie grazie allora che Roma sia una città multiculturale è sotto gli occhi di tutti che questo aspetto non venga valorizzato nel senso buono perché purtroppo la parola valorizzazione ha assunto una connotazione un po' negativa con le ultime amministrazioni che questo aspetto non venga valorizzato è altrettanto sotto gli occhi di tutti quindi Roma per rinascere deve comunque essere una città che rilancia anche il progetto multiculturale assolutamente sì e sui Rom apriamo un bel capitolo perché vede le farò un discorso che parte adesso dal dato economico che è forse quello più devastante noi per i campi Rom per quella che è stata definita emergenza Rom dura da vent'anni noi a Roma in Italia abbiamo glielo dico insomma perché così voi capiate noi le nostre emergenze non sono mai puntuali le nostre emergenze diventano perenni noi a Roma abbiamo l'emergenza caldo e l'emergenza freddo nonostante sappiamo già all'inizio di ogni anno che a luglio farà molto caldo e in inverno farà molto freddo però noi le chiamiamo emergenze così anche i Rom sono diventati un'emergenza strutturale da vent'anni e spendiamo per questa emergenza circa 24 milioni di euro l'anno per fare cosa? per mantenere dei campi dove le condizioni di vita sono comunque molto degradate e per mantenere soprattutto persone la cui maggior parte è in età di lavorare può lavorare noi le manteniamo completamente a spese nostre allora io credo che un buon progetto di inclusione debba necessariamente intanto seguire le linee europee ce lo impone l'Europa ed sono linee che sono state recepite anche dal ministero degli interni quindi parliamo di un progressivo superamento dei campi Rom quindi partendo da qui noi dobbiamo iniziare a capire e far capire che le persone Rom peraltro la maggior parte sono cittadini italiani di etnia Rom hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti degli italiani quindi devono lavorare come tutti noi devono pagare le tasse come tutti noi e hanno quindi diritto di integrarsi come tutti noi ma non è accettabile che noi continuiamo a pagare 24 milioni di euro annui oltre poi alle emergenze oltre alle emergenze eccetera non è accettabile per mantenere delle persone che possono lavorare non è accettabile vedere i bambini che vanno a mendicare e nel peggiore dei casi vanno a rubare devono andare a scuola questo è il nostro progetto e non è nostro è il progetto europeo noi siamo già sotto procedura di infrazione e se l'Europa applica le sanzioni oltre ai 24 milioni di euro ne pagheremmo ancora di più quindi questo progressivo progressiva chiusura dei campi è una è un obiettivo che non è più rinviabile grazie io volevo fare due domande brevi la prima è se e come farete il reddito di cittadinanza a Roma e la seconda a proposito del PD ieri il PD l'ha accusata di aver lavorato credo forse aver fatto il praticantato nello studio di Cesare Previti e di non aver pubblicato nel curriculum volevo sapere che cosa risponde ad esposito allora iniziamo dal reddito dal reddito di cittadinanza sicuramente come dicevo prima è un obiettivo sia a livello nazionale che a livello locale purtroppo io credo che quando dico i numeri sono importanti parlare senza numeri è un po' difficile è un nostro obiettivo però finché non ritorniamo dentro non leggiamo veramente i numeri post amministrazione tronca credo sia difficile dire come quanto e quando sediamoci valutiamo vediamo quali sono le cifre e poi iniziamo a lavorare per poterlo rendere possibile anche a Roma credo che questa sia la risposta più onesta che le posso dare l'obiettivo c'è le modalità dovranno essere valutate sulla base dei numeri questo è una risposta più corretta di così non potrei darle insomma per quanto riguarda questa accusa mi lasci sorridere allora io non ho mai lavorato per lo studio previti però ho svolto la pratica forense presso lo studio previti e mi lasci raccontare a questo punto come andò la cosa mi fa un po' sorridere anche perché risale a 13 anni fa quasi una vita fa per me quasi metà della mia vita in realtà sono uscita dall'università a 24-25 anni e ho fatto il primo colloquio con uno dei miei professori di diritto dell'informatica una materia che mi appassionava tantissimo e lui mi disse che sarebbe stato onorato di lavorare con me e io con lui però c'era un piccolo problema in quel periodo lui incidentalmente lavorava per lo studio previti mi ha rassicurato dicendo che comunque lui avrebbe lavorato con me così è stato io sono andata a fare la pratica lì ho fatto come tutti i praticanti italiani prima dell'introduzione del processo civile telematico ho fatto per lo studio previti i famosi giri di cancelleria quindi io mi svegliavo la mattina all'alba andavo a notificare richiedere le copie sentenze deposito atti mio collega avvocato in studio ride perché si ricorda sa che cosa vuol dire insomma specializzati in file ma come tutti i praticanti italiani questa era la nostra vita finito il periodo di pratica sono andata via tutto qui grazie posso da questa parte sì avvocato Raggi buongiorno buongiorno molto semplici quasi la risposta chiusa quindi sarò brevissimo presenterete la squadra prima delle elezioni e se sì sarà composta solo di non le vuol chiamare politici diciamo di cittadini del Movimento 5 Stelle o anche tecnici due è d'accordo con tanti osservatori che dicono non voglio tornare sulla storia del complotto che è stato oggetto di battute del presidente Renzi però è d'accordo con alcuni osservatori che dicono che i partiti tradizionali stanno schierando delle candidature molto deboli e che quindi in un ipotetico secondo turno dove i due candidati che si presentano come esterno al mondo dei partiti sulla carta cioè lei e Marchini lei teme uno scenario in cui eventualmente i partiti tradizionali convergerebbero su Marchini in funzione antiraggi tre aiuto quante domande è finita è finita su tutte domande sì e no più che altro non me le ricordo terza domanda a proposito di leggere i numeri risulta che in realtà in tre anni voi avete guardato non solo agli sprechi ma anche alla situazione del debito monstre del comune di Roma e ci può dire qualcosa di più su quello che avete scoperto voi avete per esempio accesso ai contratti derivati che è uno dei temi critici per usare un eufemismo della situazione debitoria del comune di Roma ci può dire qualcosa di più perché non avete condiviso con i cittadini quello che avete apparentemente scoperto allora grazie cercherò di rispondere dall'ultima perché me la ricordo nel caso le altre sarà così gentile da ricordarmene lei allora per quanto riguarda il debito monstre noi abbiamo tentato di fare accesso ai contratti derivati sia come consiglieri capitolini sia come parlamentari la gestione commissariale però è purtroppo un grande buco nero all'interno del quale non abbiamo accesso né noi consiglieri capitolini né i parlamentari quindi noi abbiamo fatto degli accessi alla ragioneria e ci ha dato copia di alcuni contratti che tutto sommato sono assolutamente ininfluenti quindi possiamo dire che nonostante i nostri tentativi sui contratti derivati non siamo riusciti ancora a scoprire nulla c'è un grande mistero e forse sarebbe il caso di chiedersi perché questo mistero sui contratti derivati perché nessuno vuole disvelare queste carte cosa c'è da nascondere che cosa dobbiamo chiedere l'aiuto dei caschi blu dell'ONU per riuscire ad accedere mi sono data una risposta mi sono data una risposta a questa domanda mi sono data una risposta è che forse qualcosa di poco chiaro c'è e non lo vogliono e non lo vogliono rivelare a noi non lo vogliono rivelare ai cittadini voi lo rivederete se dovessimo riuscire a scoprirlo sì come abbiamo fatto col resto ma finché purtroppo non riusciamo ad accedere non possiamo inventare numeri o cose al momento noi siamo ancora nella fase di quelli che continuano a bussare ma anche con diciamo le teste da riete ma abbiamo trovato una porta impenetrabile la seconda domanda dunque mi ricordo abbia pazienza siamo d'accordo in modo tale che siamo per chiudere e quindi faccio l'analisa però mi scusate la squadra di governo è una cosa fondamentale sì grazie sì 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 sulla squadra di governo ne stiamo ancora parlando e sicuramente potrebbe essere composta tanto da personalità insomma da tecnici quanto da cittadini insomma le cose non sono antinomiche antitetiche comunque stiamo ancora valutando e ci piacerebbe poterne presentare almeno una parte prima delle elezioni sì questo è vero ma mi volevo tornare sì la detto adesso ma volevo tornare sulla questione del legale ma lei crede che questo potrebbe danneggiare l'elettorato più a sinistra del movimento perché al di là comunque le potrebbe essere resa vicina a determinati ambienti dei salotti romani quindi allontanare l'elettorato di sinistra del movimento io spero che l'elettorato io spero che i cittadini abbiano perfettamente inquadrato la questione abbiano capito che è un attacco strumentale anche un po' vile francamente che viene rivolto nei miei confronti anzi invito la ringrazio per questa domanda invito i partiti e quegli esponenti che auspicavano una campagna elettorale ecco a iniziare a essere coerenti con le loro dichiarazioni e a prendere le distanze da questi attacchi che francamente nulla nulla muovono io credo di aver spiegato la mia posizione insomma non c'è nulla di il messaggero il messaggero non ha risposto alla domanda del collega il messaggero poi ci torni anche tu non ti preoccupare il messaggero che c'era eccomi sì facciamo una domanda una domanda dobbiamo chiudere altrimenti se facciamo cinque domande al collega capisci bene la prima è olimpiadi roma 2024 se è a favore della candidatura di roma se serve un referendum se va bene così prima cosa la seconda è si ha sentito grillo e casaleggio che cosa hanno detto se verano a roma a fare la campagna olimpiadi olimpiadi bella domanda allora non è un mistero che quando eravamo in aula ci siamo scagliati contro le olimpiadi questo sempre per il solito motivo che in realtà questi grandi eventi vengono sfruttati per prendere risorse e buttarle poi ecco abbiamo la città dello sport abbiamo tante opere incompiute a roma e quindi la nostra paura è senza dubbio quella è senza dubbio quella che queste ingenti risorse vengano di nuovo sperperate in un circuito malato quando la città ha bisogno di altro allora quello che noi auspichiamo è che se la città dovesse riuscire a risorgere dalle miserie nelle quali è sprofondata magari per il 2024 potrebbe anche essere pronta per una gestione pulita delle olimpiadi ad oggi francamente non ci sentiamo di poter dare questa sicurezza è evidente però quello che auspichiamo è che piano piano con noi al governo la città possa ricominciare a vivere a utilizzare le risorse in maniera intelligente per i cittadini questo e questa è una bella domanda perché si riaggancia vero ho dimenticato si riaggancia al tema del referendum noi faremo scegliere noi e gliela do la bella risposta però non si arrabbi io non sono arrabbiata lei non si arrabbi siamo cerchiamo di fare allora noi vogliamo coinvolgere i cittadini e vogliamo che si esprimano su questa su questa possibilità informandoli però attenzione vogliamo per noi i referendum sono importanti però vogliamo informare i cittadini di quelli che sono i pericoli per una gestione dissennata dei fondi delle olimpiadi e quindi vorremmo ascoltare i cittadini e capire cosa vogliono fare questo non lo so non lo so ci sentiremo ne parleremo non lo so una cosa a volo veramente a volo adesso rispondiamo ok scusi Rai News le volevo chiedere adesso rispondo anche al corrigo lei diceva collaboreremo anche con i diversi livelli di amministrazione ecco lei come intende siccome non sempre riuscite a trattare diciamo a collaborare a scendere a compromessi come pensate di collaborare con il governo e con l'amministrazione della regione che in questo momento sono entrambi nelle mani del PD allora io ho detto collaboreremo con i nostri omologhi intendendo che faremo sicuramente squadra con i nostri consiglieri Movimento 5 Stelle in regione con i parlamentari e con gli eurodeputati per il resto un'amministrazione ha sicuramente degli altri un'amministrazione comunale ha sicuramente degli interlocutori istituzionali che purtroppo come nel nostro caso non sono del nostro colore politico e quindi ci raffronteremo su un piano di parità esattamente come deve fare un sindaco non ci sarà subalternità ci sarà confronto nel rispetto delle reciproche competenze perché non ho inserito il curriculum perché in linea di massima gli avvocati non inseriscono all'interno del proprio curriculum gli studi nei quali fanno pratica a meno che non siano gli studi nei quali continuano a prestare lavoro si tratta di un'attività svolta 13 anni fa comunque io ho risposto quindi non ho insomma non l'ho inserito come immagino non ho inserito neanche le famiglie presso le quali ho prestato le attività di babysitteraggio i ristoranti nei quali insomma ma non non nego questa cosa me l'avete chiesta e ve la sto dicendo grazie grazie grazie